I see trees are green, red roses too, I see they're blue, for me and you, and I sing to myself, oh wonderful world, I see skies are blue. E sicuramente le notano tutti che la situazione in Sicilia come nel resto dell'Italia non è delle migliori, ma il problema dove sta? Il problema sicuramente non sta nelle idee, ma sta nel realizzarle le idee, perché il problema è che tutti hanno delle idee, ma tutte le portano avanti nel primo periodo della loro vocazione politica, tra virgolette, dopodiché appena raggiungono la poltrona che loro vogliono tutto si ferma lì, le loro promesse vengono dimenticate e questo negli anni li abbiamo sempre visti e rivisti. Ora, che cosa possiamo fare noi come popolo italiano? Sicuramente la rivolta no, perché nella storia insegna che la fanno sempre i generali, e siccome in Italia i nostri generali, i nostri pezzi grossi, guadagnano fior di quattrini in Italia, loro non sono per la rivoluzione. Popolo italiano, vi potete alzare con un sol grido, la prima domenica del mese, e non andate da nessuna parte, fate sciopero dei carburanti, non usando mezzi, non usando veicoli di nessun tipo. Noi rimaniamo fermi a caso comunque nel nostro quartiere, lì compriamo il gelato, non ce lo andiamo a prendere a Cefalù, ce lo compriamo qui, nel nostro bar sotto casa. Lavora il piccolo, non utilizziamo milioni e milioni di petrolio, e quindi anche l'inquinamento viene meno, e nello stesso tempo non diamo allo Stato quegli arcisi che nei secoli dei secoli sono sempre dati a loro per arricchire i loro stipendi, non per dare qualcosa al cittadino. Questa è la mia proposta. I disagi dei cittadini? Purtroppo è un tasto dolente che vai a appiggiare, che le risposte nascono spontanee. E purtroppo bisognerebbe intervenire alla radice del problema, no? Quindi andando a cambiare tutto il sistema politico nazionale, e lì noi rimaniamo impotenti, singoli cittadini. Quindi ci affidiamo alla nuova generazione della politica. E allora, questa mattina cambia la location, siamo sempre tra i marcati della città, nel quartiere di Passo di Rigano. La gente non ha lavoro, la gente chiede interventi seri perché non ce la fa più. Venite tutti insieme, lunedì mattina. Alle dieci. Piazza Indipendenza. Vi aspettiamo. Uniti si vince. Cosa non va a Palermo? Tutto non va, tutto non va. Pensionati, diritti dei pensionati. Quello sì, le piccole pensioni. Tagliano sempre le piccole pensioni. Un appello. Speriamo che quelli che ci governano, la regione, si mettono la mano sul cuore e pensano per gli altri. Ci sono disagi che non si può vivere più, le persone cercano di tirare avanti e non possono andare più avanti. Già ti ho detto tu. Il mio disagio è quello che lo Stato non ti dà nulla, ti conosce solo per le tasse, perché conosce la tua via per le tasse, ma non conosce ciò che siamo noi, che viviamo per vendere abusivamente e che vendo abusivamente io là, io per poter vivere. Lo Stato cosa fa per noi? Niente. Anzi, ci levano, ci levano. Lei è una pensionata? Sì, sono pensionata, però io ho faticato 40 anni e due mesi, ho faticato per la mia pensione, quindi mi spetta. Loro cosa fanno? Tre mesi fanno allo Stato e si fregano le pensioni d'oro. Sono disoccupati e disabili. E lì non ha nessuna agevolazione in quanto disabile? C'è più che ho 290 euro di pensione, come faccio a sopravvivere con quattro figli. Lo Stato proprio non ha aiuto per niente. Allora, il disagio dei parlamentari inizialmente iniziano dal fatto che praticamente il lavoro non ce n'è. Questo è il primo elemento che crea praticamente la fuga dei giovani della Sicilia. Questa terra è rimasta abbandonata per anni dai nostri politici che non hanno fatto altro che pensare praticamente ai loro interessi e alle loro poltrone. Questa è una terra ormai dimenticata dal governo nazionale, una terra dove praticamente il giovane è costretto a emigrare, come si emigrava 50 anni fa. Con il risultato è che le famiglie ancora un minimo riescono ad aiutare i propri figli, i propri nipoti e quindi c'è un'assistenza anche a questa situazione. Però un domani non si sa come andrà a finire. Quali sono i suoi disagi? Andiamo tutti male. Troppe tasse? Troppo. Sì, sì, troppo. Non si va più avanti. Ha figli? Certo, tre sono. Tutti disoccupati? Sì. Non lavora nessuno. Io solo lavora. Alla giornata però. Quindi un padre di famiglia che non riesce a stento veramente a mandare avanti una famiglia. Grazie a Dio a Palermo vige l'arte di arrangiarsi. Le panelle sono buonissime, lo Stato non c'è e lui riesce a sostituirsi a quello che dovrebbe fare lo Stato. Questa è la forza della Sicilia, la Sicilia che può farcela, la Sicilia che può cambiare. Per questa ragione lunedì 5 alle ore 10 saremo insieme e ci sarà quello del pane con le panelle. Disaggi tantissimi. Molte tasse, molte tasse. Non c'è nessuna tutela. Molti disagi. Molti. Questa è quella parte di Palermo che consente ancora con i sacrifici delle serracine scalzate, con le quote degli affitti, con le quote delle tasse, con gli stipendi da pagare, a tenere alta la bandiera di una città che altrimenti sarebbe approfondata. Questa è la gente onesta che paga le tasse a cui la politica dovrebbe dire grazie anziché chiudersi nei palazzi di vetro. Per questa ragione giorno 5 alle ore 10 saremo lì insieme ai commercianti per fare sentire la nostra voce. Abbiamo intervistato un commerciante proprietario di una bancarella che però ha dei costi esosi. Oggi siamo qui al villaggio Santa Rosalia, al mercato rionale. Abbiamo incontrato tanti commercianti, tante persone che vivono facendo le bancarelle al mercatino. Ed è incredibile ricevere delle testimonianze di quelli che vengono definiti dei mercatari che fanno un investimento anno pari a circa 10.000 euro. È incredibile pensare che debbano sostenere queste spese così elevate per poter avere una semplice bancarella al mercatino. Un mercatino rionale con il quale l'arte di arrangiarsi tipica di noi palermitani aiuta i cittadini a tirare avanti, a tirare a campare la famiglia. Ma non è semplice oggi. Per questo siamo qui oggi e per questo scenderemo in pianza giorno 5 settembre. Dal 5 al 13 settembre per rivendicare i nostri diritti, per parlare di donne e tempi di conciliazione nel mondo del lavoro, per parlare di diritto all'occupazione, per parlare di disoccupazione giovanile, per parlare di tutte quelle tematiche che fondamentalmente sono dei diritti. Diritti dei cittadini, diritti dei giovani, diritti delle donne, diritti delle persone disagiate, diritti degli anziani. Dovrebbe esaltare il governo di Crocetta perché prende in giro tutti i pari di famiglia, cominciando dai bambini ai più grandi. Un mese fa ha dichiarato sul giornale in televisione il signor Crocetta che c'era un sussidio per i giovani dai 18 ai 56 anni. Non è vero niente. Domanda per cantiere scuola, non è vero niente. Bisogna fare la guerra. Cioè ragazzi tutti laureati, ho visto ragazzi qua al mercatino con una laurea in medicina che fa il fruttivento. Un altro laureato in architettura vende l'aio in mezzo alla strada e questo è il governo. Dopo spendere tanti soldi, il padre, la mamma, sacrifici e cose senza lavoro. Siamo con le spalle a muro come Gesù Cristo, Gesù Cristo è stato messo in croce, lo stesso stanno facendo con noi. E noi stiamo morendo perché non ce la facciamo più. Le tasse sono troppo alte. Non ce la facciamo più a reggere, non ce la facciamo più. Quindi chiuso l'argomento perché è una ferita aperta che si sta portando anche la nostra anima per dirlo. Allora siamo in una situazione veramente critica, giovani posto non ne hanno, studiano e sono parcheggiati all'università e posto non ce ne hanno. Così non si può andare avanti perché il futuro deve essere dei giovani. Poi non parliamo della legge Fornero, una cosa assolutamente negativa che ha portato un disastro sia economico che anche psicologico a molti italiani. Speriamo che si possa fare qualche cosa con la riforma, si possa riformare questa legge Fornero che ha messo l'Italia veramente in ginocchio. Le tasse ovviamente non ne parliamo, è qualcosa veramente impensabile, cioè che praticamente il 50% di uno stipendo viene tassato. Non si arriva più alla fine del mese, è un problema. Oggi in questo grande mercato di via Palmerino, di un quartiere importante, qual è quello di Villa Tasca, ancora una volta si evince come Palermo e la Sicilia tutta vive l'assenza di questi diritti che effettivamente sono negati. Non mi ha sorpreso, mi ha ulteriormente afflitto la notizia, il sapere da qualche commerciante, il vedere soprattutto il ragazzo laureato che era disposto pur di avere qualcosa a vendere l'aglio. Allora abbiamo potuto cogliere gli animi di palermitani che vogliono scendere in piazza giorno 5 perché non ce la fanno più, non si vogliono più nascondere dietro un dito, non vogliono fare più in modo che pochi mettano la faccia in alcune iniziative ma in realtà si vuole creare un sentire comune, si vuole creare quella società che sia più società, che sia una società più democratica dove questi diritti non siano semplicemente carta ma che abbiano veramente una sostanza. Ecco che deve ritornare, deve essere vero il diritto alla sanità, il diritto all'istruzione, il diritto alle pensioni e il diritto ancora prima a un lavoro. Mettere i giovani e le persone nelle condizioni di poter lavorare è questa la vera premessa di una società appunto evoluta, degna di chiamarsi tale. Dunque dici quali sono i problemi che attualmente vive Corleone? È una situazione molto difficile derivante dal recente scioglimento per infiltrazioni mafiose che a Corleone ha coinvolto l'intero consiglio comunale e ha proiettato questa comunità in una situazione che sembrava essere superata, cioè quella della presenza costante della mafia che aveva visto da parte dei Corleonesi onesti che sono la maggioranza intraprendere un cammino di riscatto sociale e anche e soprattutto culturale che si è bruscamente interrotto e che adesso è messo seriamente in discussione dai fatti che stanno emergendo che devo dire noi denunciamo da tempo tra queste mura e che vedono sempre più episodi che hanno coinvolto esponenti politici locali che devo essere onesto non si possono, sarebbe disonesto intellettualmente a scrivere soltanto all'ultima amministrazione ma che evidentemente coinvolgono un'intera classe dirigente che da quasi vent'anni amministra questa città. Sarà difficile riprendersi, noi ci proveremo con umiltà, testa bassa e faremo di tutto per riscattare Corleone e Corleonesi onesti. Dopo questa vicenda, qual è il modo migliore per potersi riscattare da un punto di vista sociale e politico? Sicuramente ad oggi dobbiamo un pochettino discostarci dalle vicende politiche che hanno reso protagonista purtroppo la nostra città di Corleone. L'associazione è il modo migliore per portare avanti e sottolineare il nome di Corleone, è quello di individuarsi appunto nell'ambito sociale. Ad oggi la nostra associazione si sta distinguendo soprattutto per aver creato all'interno della nostra sede un punto di raccolta per tutti quei prodotti di prima necessità ma non solo da poter inviare nelle zone terremotate. Tutti i ragazzi e l'associazione ad oggi si alterano durante l'arco della giornata per tenere aperto la sede e per fare in modo che tutti i Corleonesi possano contribuire a portare qualcosa che poi noi porteremo a sua volta a Catania prima e poi verranno trasportati a Riedi direttamente. Dunque avete anche organizzato un'iniziativa all'insegna della solidarietà, questa raccolta di beni di prima necessità per i terremotati di Amatrice. Sì, sì, infatti abbiamo raccolto l'invito di altre comunità siciliane, in particolar modo della comunità Spazio Libero Cervantes di Catania appunto. L'abbiamo fatto con molto piacere e devo dire siamo molto felici di come sta rispondendo la comunità corleonese. Ecco, fino a stamattina sono venuto a trovarci e a portare beni soprattutto di tipo igienico-sanitario perché questa è la necessità che serve in questo momento, visto che ci hanno detto di fermarci con la raccolta di alimenti, di vestiti che a quanto pare sta procedendo abbastanza bene in tutto il resto d'Italia. Noi nel nostro piccolo stiamo provando a dare questo piccolo contributo e le stiamo facendo con immenso piacere e molto entusiasmo. Convinti che la comunità corleonese sta rispondendo e risponderà. Vediamo che Corleone è fatta di giovani che vogliono impegnarsi sul sociale, cambiare la propria realtà e comunque riscattare un'identità territoriale. Questa organizzazione sicuramente rappresenta la parte migliore della Corleone che ce la può fare. Di una Corleone che in maniera silente, in maniera serena, lontana dai riflettori, dalla ribalta e soprattutto lontana anche dagli aspetti più prettamente di carattere gestionale, a testa bassa, come hanno già detto i ragazzi, sta lavorando per essere solidale a quella parte del paese che sta vivendo un momento complesso. Un modo per unire il sud e il centro a sud, un modo per stare vicini a chi è stato poco fortunato e sta vivendo un'esperienza davvero drammatica. Siamo quasi a qualcosa come 300 vittime, tantissime ricoverati nelle strutture sanitarie di quel territorio. Corleone attraverso l'associazione esprime questa solidarietà, esprime fatti concreti e non parole e si mette in cammino verso questo 2017 che vorrà vedere questo territorio protagonista dell'anno europeo del turismo sostenibile. Un turismo che guarda quindi non soltanto al benessere di chi vive oggi la società corlenese ma soprattutto di chi la vivrà fra tanti anni e dovrà poter vivere e trovare un territorio capace di preservarsi. Per questo stiamo lavorando insieme ai ragazzi a circuiti di turismo sostenibile che parleranno di dimensione religiosa ma che parleranno soprattutto di vocazione territoriale, una vocazione legata al mondo dell'agricoltura, legata al mondo produttivo, legata al settore vitivinicolo e a tanti professionisti che vengono dal mondo dell'artigianato locale e della piccola e media impresa che rappresenteranno come dicevamo all'inizio la Corleone e lasciatemi dire la Sicilia che ce la può fare. Questo pomeriggio ci troviamo a Chiusa Sclafani, Nicola Giosuè presenta Sotto Zero Show, uno show davvero fatto di musica, di divertimento, di intrattenimento. Sì, in effetti Sotto Zero è il personaggio che ho costruito e creato l'anno scorso. Sotto Zero dico sempre simpaticamente per tre motivi. Il primo motivo perché so più giovane del grande noto artista Renato, so più giovane dei vent'anni. Il secondo motivo è quello artistico, so sotto di lui ed è tanto. Il terzo motivo è quello economico, non show un euro. Quindi il suo problema è che non riceve contributi da parte degli enti locali. Abbiamo centrato l'argomento, Sotto Zero proprio per questo. Ma la cosa che denota molta tristezza e dispiacere è il fatto che non si valorizzi l'arte. Io personalmente, chi me conosce lo sa, a parte interpretare questo personaggio, mi occupo anche di teatro e cinematografia. Teatro vuol dire cultura. Allora, tagliare o non avere addirittura fondi per poter avere delle buone iniziative, dove potremmo anche coinvolgere i giovani o chi si vuole accostare all'arte ma non ha neanche i mezzi per poter cominciare, è un grande problema perché significa che ci stiamo impoverendo dentro e più avanti andiamo con i tempi, più poveri saremo. Un popolo senza la cultura per me è un popolo finito, senza futuro. Vediamo qui un giovane artista che vuole riscattarsi, però a volte questa possibilità viene negata. Allora, in questo caso, più che un giovane artista vuole riscattarsi, parliamo chiaramente di una persona che se anche con grande umiltà sta comunque, come dire, riuscendo ad andare sui palconoscenici a raccontare una ribalta in maniera assolutamente autorevole. Lo sta facendo con grande competenza, lo sta facendo raggiungendo dei grandi successi ed essendo tra l'altro un profilo di alta qualità molto seguito non solo nel nostro territorio. Per quanto riguarda invece i problemi a cui faceva riferimento, è chiaro che lì, come dire, mette il dito sulla piaga, lo fa perché evidentemente la politica mostra le sue debolezze, le sue fragilità, la sua incapacità lo fa rispetto ad un governo regionale che in questo momento è assolutamente assente. Ciò ovviamente, come dire, richiede di porre in essere dei rimedi. Io sto facendo questo giro per la Sicilia, raccontando, come dire, la parte della Sicilia che ce la può fare. Lo sto facendo in prospettiva di quello che diventerà un tormentone per quanto mi riguarda da qui ai prossimi mesi, ovvero facendo riferimento al 2017, quale anno europeo del turismo sostenibile e dello sviluppo. Cosa significa? Significa che piazze come queste potranno essere animate con il coinvolgimento di imprenditori, di attività artigianali per promuovere un territorio rispetto alla sua naturale vocazione turistica. Questo significa coniugare non soltanto comunque paesaggi e siti costurali monumentali, ma significa fare riferimento, come lui faceva riferimento, alla dimensione invece più legata alla costura, allo spettacolo. Questo il 2017, con queste premesse lo vogliamo affrontare, fiduciosi che la Sicilia cambiare può, la Sicilia cambiare deve, per dare delle opportunità e delle concretezze di sviluppo a chi ci crede e vuole continuare ad impegnarsi. La cultura sicuramente rappresenta l'identità di un popolo, di un territorio, però a quanto pare forse non viene tanto valorizzata. Questo è uno dei tanti esempi. La cultura ha la capacità di raccontare il passato, il presente di un territorio, ma anche la dimensione futura nella quale il territorio stesso può proiettarsi. Io in qualità di presidente del Lions Club Palermo Mediterranea farò portavoce di un'istanza che rappresenterò all'onorevole Figuccio, ovvero quella di valorizzare il territorio della nostra bella isola attraverso la produzione di alcune fiction girate proprio qui, nella nostra splendida terra. Questo avviene in altri contesti. La Germania insegna, ci sono delle ottime fiction tedesche che sono un esempio di marketing territoriale e turistico. Non vedo perché in Sicilia, dopo alcuni brevi esperimenti che purtroppo, pur essendo dei progetti pilota di grande valore, non sono stati portati avanti, non vedo perché anche in Sicilia non si debba replicare questo esperimento che in altri luoghi ha portato benessere diffuso e soprattutto forme innovative di economia. So che l'onorevole Figuccio è particolarmente sensibile a questi temi, quindi appunto mi farò promotrice di questa istanza. In quanto allo spettacolo di stasera, credo che Nicola sia un esempio di versatilità, di capacità di mettere a disposizione della collettività le proprie abilità per creare momenti di intrattenimento e di socialità. Non dimentichiamo il grande valore che chi lavora nel mondo dello spettacolo ricopre anche in ambito sociale. Grazie. Chi sono i suoi compagni di questo viaggio, di questa avventura e che la seguono continuamente? Beh, molto dico alla zero. Se mi dai il microfono e magari lui ci riprende, te li ripresento uno alla volta, anche evidenziando il ruolo che hanno stasera con me su questo favoloso palcoscenico. E allora abbiamo alle tastiere e voce, abbiamo Gaspare Schiavone. Grazie, buonasera a tutti. Continuiamo al piano elettrico e voce, abbiamo Gioacchino Ingrassia. Ciao a tutti, buonasera. Passiamo poi alla voce femminile. Via qua, Regina, via, non ti preoccupare. Fate zoomare. Alla voce abbiamo Mirella Regina. Buonasera a tutti. Al violino abbiamo Agata Fanzone. Ciao a tutti. E poi al sax, un mio grande amico che tra l'altro è stato già con me in passato su altri palchi quando ci siamo occupati anche di detenuti, abbiamo affrontato il problema delle carceri e del tipo e la qualità di vita delle carceri, ma non voglio assolutamente andare fuori tema della serata. Lui è al sax, il mio grande amico Lorenzo Barbuto. Buonasera a tutti. Ebbene, adesso ci diamo un in bocca al lupo per la serata e vi restituisco a linea. Grazie. Recentemente a Chiusa Sclafani apre un'azienda particolare, il Coltello Siciliano, che produce coltelli e liquori. Come nasce questa iniziativa? Prima mi trovavo a Bisacquino, avevo un piccolo laboratorio di 50 metri quadri. Poi c'è stata l'occasione che gli Stafani hanno fatto la zona artigianale e mi hanno dato il local artigianale. Da poi a poco a poco abbiamo iniziato a fare una grossa produzione e a oggi facciamo un servizio pure di noleggio di coltelli. Noleggiamo coltelli per tutte le grandi catene di distribuzioni, supermercati, ristoranti, pescherie e quant'altro. Poi a poco a poco ci siamo messi pure a fare l'amaro, il coltello siciliano, che a oggi ci sta dando tante soddisfazioni. E altre sedi, suppongo. Sì, abbiamo la zona industriale, il capannone e poi abbiamo aperto questo piccolo punto ventità. Ciò dimostra come ci siano molti imprenditori che vogliono comunque produrre, fare profitto e comunque dare un'opportunità di lavoro. Assolutamente sì, io sto prendendo a proposito di coltelli, perché nascono come bisacquinesi, adesso impiantati anche a chiusa, con l'idea di rendere internazionale questo prodotto. Questo è un prodotto, diciamo, forse tra i più piccoli, tra i coltelli che loro fanno. Come vedete è fatto con ossa, ovvero esattamente con le corna di ovini e bovini. È un prodotto del quale fare parlare nel mondo. Sempre ricordatelo a proposito di quel bellissimo 2017, anno europeo del turismo sostenibile e dello sviluppo, a partire da chiusa e dai suoi coltelli. Sindaco, ben presto a Giuliana si svolgerà un evento culturale davvero importante. Di che si tratta esattamente? Allora, la mia amministrazione sta puntando tutto su un evento, come dice lei benissimo, eccezionale. Si parla della castellana. La castellana dove non è la tipica castellana che si fa solo la sfilata, ma è una castellana recitata, dove avevamo 200-250 attori. E quindi è proprio il punto principale della nostra manifestazione estiva. Questa sarà fatta giorno 10, 11, 17 e 18 settembre. Come dicevo, questa castellana viene fatta e diretta dal nostro maestro Rocco Chennici, una persona molto competente per queste cose, visto che ha avuto svariati premi. Noi, tra l'altro, veniamo da un successo del presepe vivente, perché abbiamo fatto un presepe vivente dove sono venuti nel nostro piccolo 10.000 persone. La Sicilia si racconta sempre attraverso le sue tradizioni, che davvero raccontano ciò che siamo. Certamente, ciò che siamo, ciò che siamo stati e soprattutto ciò che saremo. Perché è chiaro che la tradizione e la cultura di un popolo ne raccontano le sue potenzialità, oltre che la sua storia. L'amministrazione di Giuliana sta dimostrando di essere con autorevolezza e competenza pronta a raccogliere queste sfide, sfide che si misurano non soltanto alla luce di queste bellissime iniziative, a partire da questi due fine settimane di settembre, che invitiamo rispetto ai quali invitiamo tutta la popolazione siciliana ad essere a Giuliana, perché ne verrà davvero la pena, ma che riuscirà anche a rappresentare il meglio di sé, alla luce di quella, io non mi stancherò mai di ricordarlo, questo sarà, come dire, il lieto motivo dei prossimi mesi, alla luce di questo benedettissimo 2017, anno europeo del turismo sostenibile e dello sviluppo. Lei è l'autore della Castellana, ci dica come è venuta in mente questa idea, che cosa ha scaturito in lei? Beh, intanto io preferirei fare una piccola premessa. Io lavoro da artista e grazie a Dio dico ho la pensione, riesco a vivere dignitosamente, quindi amo fare l'artista a costo zero ovunque vado, perché io amo tanto la mia terra, e a proposito dico pure che chi non ama la propria terra non è degno di abitarla. Ora, passando alla Castellana. La Castellana è una favola inventata da me, perché essendo un drammaturgo e commediografo, ho scritto questa storia di una pianta che produceva del frutto piccolo che l'uomo diventava sapiente in un attimo. E allora mi è venuta l'idea di coinvolgere Federico II, perché questo Federico II che era un grande ricercatore, un grande uomo di culture, anche se era un po' estroversino, e quindi l'ho inserita nel contesto della Castellana. La Castellana, dico come fanno in tutti gli altri posti, sono le classiche sfilate, non rammeste sfilate, è bella una storia scritta, è visitata a quadri, tutta recitata, saranno circa 250 personaggi, quindi c'è da girare per un'oretta piena a divertirsi in questo mondo di favole, dove ci sono briganti che hanno distrutto la pianta, le sorelle dei briganti, insomma c'è tutto nei corpi che parla, c'è tutta una sorella che parla. Poi alla fine, la morale finale è quella che il bambino dice al nonno, nonno, ma vedi a piantare il frutto del senno? E allora il nonno dice, figlio mio, a sapere che ho il vero senno, è dintro il mio avuto stesso, è che l'uomo avrebbe bisogno di racchiappare i simboli e cose per diventare diverso. È una storia che invito veramente a vedere, perché è ricca di grandi valori umani, è un mondo di favole, ecco, dove c'è un po' di tutto, ci sono 150 personaggi con i costumi d'epoca, il Federico, l'incoronazione, insomma un po' di storia federiciana. Quindi una rievocazione degli antichi valori, in un certo senso. Sì, indubbiamente, perché laddove i valori finiscono l'uomo è perso, diciamo, quindi bisogna lavorare affinché questi valori, dico, siano sempre a galla, che senso ha di vivere senza valori. Ci troviamo nella zona di Passo di Rigano, all'interno della villetta Zaira, che però presenta un problema di manutenzione, un problema di erogazione d'acqua. Sì, questa erogazione d'acqua praticamente è venuta a mancare circa 7-8 mesi fa, perché abbiamo avuto dei problemi tecnici con quelli del comune che hanno passato le mani a noi e quelli del comune che si sono passati fra di loro stessi. Abbiamo chiamato delle manutenzioni perché si otturavano dei tombini all'interno dove ci conserviamo anche gli attrezzi da lavoro, abbiamo dei motorini dell'acqua fuori uso e tutta l'irrigazione all'interno della villetta che non funziona più perché con i vandalici dei ragazzi hanno rotto dei tubi, dei fili e quindi siamo anche noi in disagio di poter usare l'acqua perché abbiamo anche delle perdenze che se ne va anche l'acqua. Abbiamo richiesto l'intervento sia dal comune e se della nostra azienda e per problemi tecnici non hanno ancora avuto la disponibilità di poterlo venire a aggiustare. La villetta Zaira, uno degli tanti spazi verdi che potrebbe essere utilizzato a favore del cittadino? Assolutamente, siamo in uno spazio adiacente all'istituto comprensivo di Giangelo Buarroti tra la via Castellana e quest'area popolare di via Mozambico un territorio dove tanti ragazzi sono impegnati un territorio frequentato da tanti cittadini che vorrebbero poter fruire di questo spazio di aggregazione uno spazio importante che purtroppo per colpa dell'amministrazione è rimasto abbandonato a se stesso. qua io ci sono cresciuto andavo in questa scuola in questo istituto comprensivo e non mi sembra corretto che per l'incuria dell'amministrazione malgrado il grande impegno degli operai i bambini del quartiere non possano beneficiare di questo spazio per questa ragione scriveremo una nota all'amministrazione e vediamo un attimino chi è piega prende la vicenda. e vediamo un attimino e vediamo un attimino e vediamo un attimino grazie a tutti